Faceva alla guardia la sua piantagione di marijuana tecnologica del tipo skunk estesa su un impianto sericolo di oltre 5.000 metri quadrati incontrata a Dirillo in territorio di Acate. Il proprietario e guardiano delle piante di droga finito in manette è il 57enne Giovanni Rubino con precedenti penali per reati in materia di armi nonché contro il patrimonio e la persona. La polizia di Vittoria Niscemi ha accertato che la coltivazione veniva portata avanti con le più aggiornate tecniche agronomiche. Le piante di marijuana disposte in filari regolari erano mimetizzate tra i filari di piante di pomodoro posti sui lati perimetrali dell'impianto sericolo in modo tale da impedire che dall'esterno si potesse scorgere qualcosa di sospetto. Al termine dell'operazione antidroga condotta all'alba di oggi la polizia ha accertato che Rubino aveva stipulato un contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate di Vittoria dell'azienda agricola utilizzata come copertura per la piantagione di droga, il tutto all'insaputa degli effettivi proprietari della struttura, ovvero alcune persone di Niscemi, risultate estranee alla vicenda. All'interno delle serre sono state rinvenute più di 7.200 piante coltivate da circa un paio di mesi e prossime alla raccolta in quanto già sviluppate con rigoriose infiorescenze, quindi con il massimo contenuto di principio attivo per le dosi da smarciare al dettaglio. Il peso medio di ciascuna pianta era di 650 grammi e quindi si stima una quantità di marijuana verde del peso di circa 4 tonnellate e mezzo, che una volta essiccata avrebbe prodotto 1.500 kg di droga con un cospicuo guadagno nello spaccio. Si sarebbero potute ricavare circa 1.500.000 canne che al dettaglio avrebbero potuto fruttare oltre 1 milione di euro. Rubino utilizzava un moderno sistema di videosorveglianza per tenere sotto controllo la coltivazione e la zona circostante, un accorgimento che non è bastato a sottrarlo all'arresto. L'uomo è stato condotto nel carcere di Ragusa, mentre l'appezzamento di terreno e le coltivazioni illecite sono state poste sotto sequestro.